Il mio obiettivo è far bene, continuare a far così e cercare con il resto della squadra di vincere il campionato. Un obiettivo personale mio non me lo sono prefissato, a me l'interesse è di vincere il campionato, poi se faccio 15 gol, 20 gol non mi interessa. Oggi sei riuscito dal campo prima per un infortunio, come solito con le condizioni? Più che un infortunio è stato un risentimento che mi porto da due settimane, adesso vediamo un po', con il mister abbiamo deciso di fare il cambio per non rischiare niente, adesso valuteremo in settimana. Comunque oggi anche senza di te, di solito si dice la squadra che è il maiolo dipendente, ma senza di te sono messi abbastanza bene in campo, hanno fatto un buona partita anche nei giovani catalani. Sì, ma il maiolo dipendente secondo me è tutto quello che fa gol, però io finalizzo il gioco della squadra, non è che se non ci sono io non si fa risultato. Secondo me ci sono tanti giovani bravi che con un po' di fiducia e anche loro un po' di impegno e ascoltare un po' i vecchi così possono far bene anche loro. Adesso due incontri, Pogliano, Passirano e Pogliano in casa, sono due squadre che vi stanno inseguendo in classifica, quindi due scontri diretti praticamente. Sì, sono due scontri diretti e finalmente arrivano queste partite da metterci un po' più di quella roba là, speriamo di far bene, così almeno prima della sosta così magari riusciamo a allungare un attimino e concentrarci poi per il ritorno. Ok, ringraziamo Maiolo e alla prossima partita con tutto il Pogliano in casa. Grazie, grazie a voi, ciao. Ciao. Ciao.